Allora, quindi questa è la seconda volta che facciamo per tolte, vengono colti, 150 kg questa volta, 150 kg l'altra volta. Quindi da che giorno? Dal 9 di agosto. E voi 500 tappi per fare un chino? Quindi un quintale sono dai 40.000 ai 50.000 tappi, che vuol dire che ogni settimana raccogliamo quasi 50.000, quindi ogni settimana ci vengono raccolti quasi 50.000 tappi. Grazie a tutti.